Vedete Martini all'attacchio di Ukyo Katayama e c'è la fata l'entrata della Scari, veramente una grande staccata per Martini che forse sotto sotto sente anche la pressione di quello che è lo sponsor principale in questo momento della Minardi, la Beta, che è proprio un'azienda di Monza, quindi c'è addirittura tutta una tribuna di ospiti del suo sponsor che stanno ad assistere a questa grande prestazione di Martini.